Nuova stagione, nuovo campionato, esordio dopo la cocentra delusione dello scorso 8 giugno ormai consegnata agli archivi. Di quella rosa è rimasto poco, tanti invece giovani di prospettiva, come sottolinea Zeman, più realista del Re. Io sono contento che la squadra ha scelto C, la società ha scelto la linea verde. Ho tanti ragazzi giovani, penso che sono 18 sotto 23 anni, che per me hanno prospettive. Ora bisogna lavorarci per farli uscire. Volevo dire, io non ho chiesto niente. Io sono contento che la maggior parte dei giocatori che ha cominciato il ritiro lo sta finendo. Mi piace lavorare e cercare di vedere i miglioramenti di quelli che ho a disposizione. Sul piano tattico abbiamo ancora grosse confusioni, che si spera che si risolvano. Molti giocavano tra interregionale e primavera e si giocava un altro calcio. La Serie C è diversa, ancora non l'hanno capito perché non l'hanno vista, se ne accorgeranno. Sono giovani, ci vuole un po' di tempo per fargli capire che cosa è il campionato, ma sono di talento. Io spero che tanti di loro vedrò a breve in Serie A. Pescara ha insomma tutto da scoprire. La prima avversaria è la rinnovata Juve Under 23, affidata per il secondo anno consecutivo all'ex allenatore della Primavera dell'Atalanta ed ex centrocampista dai piedi dolci Massimo Brambilla. Biancazzurri, i primi degli infortunati Tommasini e Cangiano, ha recuperato Vergani che tuttavia ripartirà dalla panchina. Probabile 11, Plizzari tre pali in difesa Pierno, Brosco, Messic e Milani. A centrocampo Aloi, Squizzato e Tuniov davanti Merola e a Cornero a supporto di Cuppone. Sul play di ruolo che di fatto manca in Rosa, Zeman, è piuttosto chiaro. Io sono contento di Squizzato, lui magari le prime partite correva troppo. Per me il regista deve correre di meno ma ragionare di più. Ora si sta adattando, lui piedi ce l'ha, fisico ce l'ha, quindi c'è tutto aperto. A lui c'è sicuramente più esperienza di lui e sa, però anche lui non è un mediano regista, a lui ci piace svariare. Nella Juve, Under 23, indisponibili, lungo De Genti, Stramaccioni, Palombo e Jocolano. Poli, causa squalifica. Sistema di gioco 3-5-2. Il probabile 11, Garofani tra i pali. In difesa, Savona, Muaremovic e Izen. Sulle fasce, Mulazzi e Turicchia, centrocampo Marissa, Asa e Nonghe. Davanti, Mangula e Guerra. Il tecnico, Massimo Brambilla. Scara è una delle squadre candidate che puntano alla promozione. L'anno scorso sono arrivati in semifinali play-off. Adesso hanno cambiato sicuramente un po' di giocatori, ma i loro obiettivi sono quelli. Hanno un pubblico importante, una piazza calda. Io sono curioso di vedere come affronteremo questa gara. Dal mio punto di vista, credo che siamo pronti. Poi dopo ci sarà da giocare con personalità, ci sarà da fare le nostre cose. Poi ci sarà da fare bene la fase difensiva, perché il Pescara è una squadra che propone, che attacca e che sicuramente ci metterà in difficoltà. È una squadra della Juventus. Già solo valore della squadra, che supera 10 milioni, noi non ci arriviamo, nonostante che siamo la squadra di 5.